Buonasera a tutti, riprendiamo l'esercizio del quadrato magico, l'esercizio sulla ricorsione che avevamo iniziato scorso martedì, che però non abbiamo completato. Ce l'eravamo lasciati con una discussione sul... mi sentite tutti anche fondo? Ce l'eravamo lasciati con una discussione sul come rappresentare il quadrato magico internamente, se utilizzare una matrice o se utilizzare un vettore, o ancora meglio una collection, e avevamo detto che utilizzare un array list era la soluzione ideale, in quanto in questo modo possiamo sfruttare le collection di Java. E stavamo discutendo su come rappresentare una matrice in forma vettoriale. Vi ho caricato su GitHub, sul progetto del quadrato magico, ho creato una nuova cartella che si chiama PDF, qui ci sono quattro file, che originariamente erano dei PDF, adesso sono quattro immagini JPEG, di alcuni miei appunti che ho scritto per spiegare meglio il concetto. Quindi riprendiamo la spiegazione. Abbiamo detto che ogni matrice può essere rappresentata in forma vettoriale, semplicemente concatenando le righe della matrice in un vettore. Ad esempio in questo caso abbiamo una matrice 2x3, quindi due righe e tre colonne, e i primi tre elementi ABC costituiscono anche i primi tre elementi del vettore B, e gli altri elementi D e F rappresentano invece la concatenazione nel vettore B. Quindi il vettore B è un vettore di sei elementi, perché due per tre è sei. Una prima notazione. L'elemento che si trova in posizione 1,2 nella matrice A è l'elemento F, quindi prima riga, perché in realtà è la seconda, perché si parte da zero, e terza colonna, 2, indice 2, è l'elemento F. Nel vettore l'elemento F si trova in posizione 5, quindi diciamo che A di 1,2 è uguale a B di 5. Come facciamo a passare da una rappresentazione matriciale a quella vettoriale? Se notate, moltiplicando 1 per 3 e sommando 2 otteniamo 5. 3 cos'è? 3 è il numero di elementi su ciascuna riga, quindi il numero di colonne della matrice. Quindi la formuletta che dobbiamo applicare per passare da una rappresentazione matriciale ad una rappresentazione vettoriale è la seguente. Se i e j sono gli indici con cui indichiamo un elemento sulla riga e sulla colonna rispettivamente, indichiamo le righe e le colonne rispettivamente, in B l'indice si ottiene moltiplicando i per n, dove n è il numero di colonne, e sommando j, che è l'indice delle colonne. Quindi applicando questa semplice formuletta siamo in grado sempre di passare da una rappresentazione matriciale ad una vettoriale. Ricordatevi che è sempre possibile rappresentare una matrice in forma vettoriale. Quindi, noi eravamo interessati a risolvere, per quanto riguarda il quadrato magico, quattro problemini, quattro sottoproblemi. Il primo era quello di sommare ciascuna riga della matrice, il secondo era di sommare ciascuna colonna della matrice, il terzo, gli elementi sulla diagonale principale, il quarto, gli elementi sulla diagonale secondaria. Come facciamo a sommare gli elementi su ciascuna riga della matrice? Se vi ricordate gli esercizi che facevate in C, avete sicuramente visto il doppio for per iterare sulla matrice, quindi il primo for che serve per iterare sulle righe e il secondo che serve per iterare, con l'annidato che serve per iterare sulle colonne. Quindi for i uguale a 0, i minore di m, che è il numero di righe, i più più, e il for interno for j uguale a 0, j minore di n, j più più. Quando passo da una riga alla successiva, quindi sono al livello del primo for, devo azzerare la variabile somma, che è quella dove salvo la somma degli elementi su ciascuna riga. E nel for più interno, invece, sommo gli elementi. Abbiamo detto che ci basta applicare quella formuletta che abbiamo visto prima per passare da una forma matriciale ad una forma vettoriale, e quindi, semplicemente, l'ultima istruzione somma più uguale ad i di j diventa somma più uguale a b di i che moltiplica n più j, dove n e m sono uguali perché si tratta di una matrice quadrata. Perché è un quadrato, appunto. Quindi, senza cambiare la notazione, siamo in grado, semplicemente, di passare da una matrice ad un vettore. Tutto chiaro? Gli altri esercizi sono analoghi, li vediamo velocemente, sfruttano lo stesso principio. Nel secondo dobbiamo sommare gli elementi di ciascuna colonna. Il modo più semplice per risolverlo, avendo in mente la soluzione dell'esercizio precedente, è quello di scambiare il ruolo di i di j, perché questa volta dobbiamo iterare su ciascuna colonna e poi passare alla colonna successiva. Quindi, semplicemente inverto i e j, inserisco prima il for j uguale a 0 g minore di n e j più più, e poi eseguo internamente il for i uguale a 0 e minore di m e più più, dove n e m, ricordo che sono uguali, e all'interno sommo. La somma però rimane invariata, quindi i e j rimangono con lo stesso ordine di prima. Quindi quello che cambia tra l'esercizio 1 e l'esercizio 2 è semplicemente questo for, l'ordine con cui i due for vengono eseguiti. Quindi nel primo esercizio abbiamo prima il for i uguale a 0 e secondo il for j uguale a 0. Nel secondo esercizio invece abbiamo prima il for j uguale a 0 e internamente il for i uguale a 0. Per il resto non cambia nulla, quindi anche la soluzione vettoriale corrispondente non cambia, perché semplicemente applichiamo la stessa formuletta di prima. Terzo esercizio. Dobbiamo sommare, dato una matrice quadrata, dobbiamo sommare gli elementi sulla diagonale principale. Dove si trovano gli elementi sulla diagonale principale? Quindi dobbiamo sommare l'elemento a, e e i. L'elemento a si trova in posizione 0,0, quindi in alto a sinistra. L'elemento e si trova al centro, quindi in posizione 1,1, e l'elemento i si trova in basso a destra, quindi in posizione 2,2. Quindi se guardate abbiamo un pattern molto semplice, entrambi gli indici si incrementano di un intero alla volta, quindi basta un solo ciclo, for i uguale a 0, i minore di m, che è la dimensione della matrice, i più più, e quello che facciamo è sommare a, di, 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 qua scusate c'è un errore, non è j, ma i perché j non esiste. Quindi quello che facciamo per sommare gli elementi della diagonale è semplicemente un singolo for, e prendiamo l'elemento in posizione a, di, di, e la stessa cosa la facciamo con la rappresentazione vettoriale, dove l'elemento che andiamo ad indicare è i per n più i. Riguardo invece, vado veloce perché queste cose dovreste già averle viste nel corso di programmazione in C, quindi non vorrei ripetermi, ma se non capite fatemi domande. Nel quarto esercizio invece, dobbiamo sommare gli elementi sulla diagonale secondaria, questo è un pochino più complesso, dove si trovano questi elementi? Allora, il primo si trova in posizione 0,2 ed è C, quindi riga 0, colonna 2. Il secondo si trova in posizione 1,1, al centro, come prima, e il terzo si trova in posizione 2,0. Se vedete qui abbiamo un pattern di nuovo interessante, perché il primo indice, quindi guardiamo questo 0, questo 1 e quel 2, questo 0, questo 1 e quel 2, vedete che aumenta, e l'altro diminuisce, in modo opposto. Quindi come facciamo a rappresentare questo in formula, come facciamo a tenere questi due indici in formula, e di nuovo ci basta un solo ciclo for, riteriamo su i uguale a 0, i minore di m, i più più, e la somma è data dall'elemento che si trova in posizione ad i, quindi colonna, sull'arte riga i, quindi 0, riga 0, riga 1, riga 2, e la colonna è m meno 1, perché se la dimensione del quadrato è 3 per 3, in realtà, gli indici vanno da 0 a 2, quindi m meno 1 è 2, 2 meno i. Quindi se sono nella riga 0, quest'indice qua, quest'indice che corrisponde a j, è uguale a 2, perché m meno 1 è 2, meno i che fa 0, è 2. Nel secondo caso mi trovo nella prima riga, quindi i uguale a 1, 2 meno 1 fa 1. Nel terzo caso, i uguale a 2, m meno 1 è uguale a 2, 2 meno 2 fa 0. Quindi semplicemente applicando queste formulette, siamo in grado di risolvere il problema del calcolo, della verifica del quadrato magico. Tutto chiaro? Sarei stato in grado di risolverlo? Sì. Direi di sì. O no? Sì. Ottimo. Quindi andiamo a finire l'esercizio sul quadrato magico. Giusto per ricapitolare, abbiamo definito una classe test model con un main, dove prima creavamo un nuovo model e poi chiamavamo il metodo findMagicSquare sul model, passando la dimensione del quadrato magico, quindi 3 in questo caso. FindMagicSquare al suo interno richiama la funzione ricorsiva, che si avvale di alcune funzioni del quadrato, perché il quadrato, il quadrato magico che andiamo a calcolare è definito nella classe quadrato. La classe quadrato l'avevamo già parzialmente implementata, ci mancano i metodi per il controllo, per la verifica. Quindi check rows, check columns, check diagonals. Quindi andiamo a risolvere questi, andiamo a implementare questi metodi. Iniziamo dal primo, check rows, e per risolverlo utilizziamo la soluzione che abbiamo visto nell'esercizio numero 1, in particolare la seconda, quella che riguarda un vettore, perché noi in Eclipse abbiamo deciso, nel nostro progetto abbiamo deciso, di implementare il quadrato magico come un array list, e quindi abbiamo semplicemente, come se avessimo il vettore B, quello che dobbiamo fare è semplicemente un doppio ciclo, for, e poi indicizzare il nostro elemento come i per n più j, dove n è la dimensione del quadrato. Quindi check rows, for int i uguale a 0, i minore di n, che è la dimensione del quadrato, i più più. Creiamo una variabile somma, int somma uguale a 0, e la inizializziamo al 0, facciamo un ciclo interno, for int j uguale a 0, j minore di n, perché si tratta di una matrice quadrata, j più più. E diciamo che somma è più uguale a matrice punto get, matrice punto get ci permette di indicizzare un elemento all'interno della nostra rappresentazione vettoriale, e abbiamo detto che la formula è i per n più j. Controlliamo che sia corretta, i per n più j. Alla fine di ogni riga, dopo aver sommato ogni riga, devo andare a controllare che somma sia uguale a magic. Magic è la costante magica che abbiamo calcolato quando abbiamo inizializzato, quando abbiamo creato il quadrato nel costruttore e quindi diciamo se if somma è diverso da magic return false. Quindi appena faccio la somma della prima riga controllo subito se questo è uguale, se la somma è uguale alla costante magica. Se è uguale passa la seconda riga e poi successivamente la terza altrimenti mi fermo subito. Nel caso in cui arrivi al fondo del primo for scrivo return true. Tutto chiaro? Facciamo la stessa cosa per le colonne. Abbiamo detto che l'implementazione è identica a quello che cambia è semplicemente l'ordine dei due if scusate, dei due for. Quindi copio il codice di check rows in check columns quello che faccio sostituisco il primo for con il secondo. quindi for j uguale a zero j minore di n j più più dove la j sappiamo che coincide con le colonne quindi il ciclo esterno sulle colonne il ciclo interno sulle righe ma non non cambiamo non sostituiamo l'ordine degli indici all'interno di matrice punto get perché se li sostituissimo torneremo nel caso di check rows che semplicemente avrei scambiato tutte le variabili invece qui voglio semplicemente scambiare le righe con le colonne avevo due opzioni la prima è come abbiamo fatto adesso di sostituire i due for la seconda invece era di lasciare i for inalterati quindi assessori ogni prima e scambiare le variabili all'interno di matrice punto get quindi scrivere j per n più i era del tutto indifferente ho deciso di scambiare i for perché mi sembrava la soluzione più semplice più immediata di nuovo alla fine di ogni colonna dopo aver calcolato la somma degli elementi su ciascuna colonna controllo che la somma sia diversa sia uguale a magic e se è diversa ritorno false se rimane uguale a magic per ogni colonna arrivo fino al fondo della funzione check columns e ritorno true a questo punto mi mancano ancora check diagonals quindi devo controllare la diagonale principale e la diagonale secondaria come faccio? potrei definire due funzioni una per la diagonale principale e una per la diagonale secondaria quindi scrivo check main diagonal ampersand che sappiamo essere l'operatore di confronto logico scusate di end logico check secondary diagonal diagonal quindi questo return mi ritorna true soltanto se entrambi i metodi ritornano true se uno dei soli se uno solo dei due ritorna false il metodo check diagonal ritornerà false quindi implemento i metodi la signatura è sempre private boolean check main diagonal e l'altro è private boolean check secondary diagonal cosa devo fare per calcolare gli elementi sulla diagonale principale come vi ho detto prima molto semplice basta fare un singolo ciclo for perché entrambi gli indici vengono incrementati di uno con la stessa logica se vi ricordate la soluzione del terzo esercizio for i uguale a 0 i minore di n o m perché sono uguali i più più somma più uguale a di di non è già i ma i quindi for int i uguale a 0 i minore di n i più più somma più uguale dis.matrice punto get i per n più i inizializziamo la variabile somma a 0 quindi creiamo una variabile int somma uguale a 0 e alla fine ci chiediamo somma è uguale alla costante magica if somma è diverso da magic ritorno false perché se non è uguale a costante magica vuol dire che il controllo sulla diagonale principale ha fallito altrimenti ritorno true poi per calcolare invece la somma sulla diagonale secondaria copio il codice di check main diagonal in check secondary diagonal questa volta però la formula cambia un pochino perché se da un lato se per le righe gli indici sono crescenti per le colonne gli indici sono decrescenti per le righe mantengo i per n perché inizio riga 0 riga 2 riga 3 i per n va bene riguardo alle colonne invece devo scrivere n meno 1 meno i perché vi ricordate che quello che voglio ottenere è questo pattern ossia gli indici delle righe devono aumentare devono essere crescenti gli indici delle colonne devono essere decrescenti 2 e la dimensione meno 1 perché gli indici partono da 0 quindi semplicemente scrivo i per n più n meno 1 meno i se abbiamo scritto tutto corretto dovremmo essere in grado di trovare di risolvere il problema del quadrato magico quindi controlliamo check rows iteriamo sulle righe in check columns iteriamo sulle colonne sulla diagonale principale abbiamo un solo ciclo for e sulla diagonale secondaria abbiamo di nuovo un altro ciclo for solo un ciclo for tutto chiaro? ci manca ancora da implementare qualcosa nella classe quadrato perché abbiamo ancora un errore ed è q.get matrice quindi ci manca il getter su matrice questo è semplice perché al fondo semplicemente creiamo i getter e setter quindi source generate getter e setters e creiamo e creiamo i getter setters per le direi due variabili matrice N potremmo potremmo anche aggiungere il metodo toString in questo modo siamo in grado di stampare un quadrato quindi possiamo andare su source generate toString vogliamo semplicemente fare la stampa della matrice quindi la stampa della rappresentazione interna del quadrato magico quindi scrivo return this punto matrice punto toString quindi mi stamperà l'array rappresentante il mio quadrato adesso possiamo tornare nel model e rivedere cercare di finire l'algoritmo ricorsivo controllare se tutto quanto quello che abbiamo fatto è corretto quindi la funzione ricorsiva accetta tre parametri il primo step ci indica il passo a quale livello della ricorsione siamo abbiamo un parametro che ci permette di salvare la soluzione parziale abbiamo un terzo parametro che è la dimensione la dimensione del quadrato la prima operazione che facciamo è un'operazione di stampa questo qui rappresenta il debug della nostra funzione ricorsiva perché vi ricordate che tutto quello che faccio all'inizio come prima operazione quando entro nella funzione ricorsiva viene eseguito ogni volta senza alcun filtro quindi è ottimo per inserire delle istruzioni di debug poi mi chiedo se sono arrivato nella condizione di terminazione e quindi poi implemento la logica per la per salvare la nuova soluzione se il quadrato è valido se soddisfa i criteri del quadrato magico e poi nell'ultimo foro invece semplicemente cerco di creare una nuova soluzione parziale a partire da quella corrente quindi itero su tutti gli interi che vanno da 1 alla dimensione del quadrato del quadrato magico controllo che l'elemento non sia già stato inserito nel quadrato perché non voglio numeri ripetuti lo aggiungo chiamo la funzione ricorsiva e poi lo tolgo perché faccio backtrack quindi tutto dovrebbe essere implementato correttamente andiamo su test model e stampiamo il risultato quindi for quadrato q quadrati stampo quadrato quindi stampo ciascun quadrato delle soluzioni trovate controllo sempre che il valore ritornato da una funzione sia diverso da null e su model nel metodo find magic square vedo che soluzione è sempre diverso da null perché definisco una nuova array list ogni volta che entro nella funzione find magic square questo fate attenzione perché vi permette di eliminare i problemi legati a null pointer exception quindi provo a eseguirlo vedo in basso che il programma sta generando tutte le possibili soluzioni e alla fine vedo che mi vengono stampate otto righe queste otto righe che sono relative alle soluzioni del quadrato magico ora proviamo a fare le due cose in modo separato torniamo nel model e eliminiamo la stampa di debug così tutto rimane più chiaro eseguiamo il programma e vediamo che questo è l'output ora vedete che il nostro programma ricorsivo ha generato otto soluzioni quindi otto quadrati magici di dimensione 4 e dovrebbero essere tutti validi se abbiamo implementato correttamente la logica di controllo se commentiamo questo per un attimo e torniamo nel model e stampiamo invece il debug cosa possiamo vedere da queste stampe interrompiamo l'esecuzione e torniamo all'inizio della ricorsione vediamo che inizialmente abbiamo una soluzione vuota poi la ricorsione cosa fa fa una prima scelta sulla prima casella in questo caso mette 1 questa è la prima soluzione parziale quella di un elemento dobbiamo arrivare ad avere una soluzione completa di 9 elementi e quindi dalla prima casella dovrà fare una scelta sulla seconda casella poi dalla seconda sulla terza e così via fino ad arrivare alla nona quando arriva alla nona casella a questo punto si può verificare se il quadrato che abbiamo generato è una soluzione del quadrato magico quando effetto la verifica e ritornerà false la ricorsione capirà che questa non è una soluzione valida e quindi dovrà tornare indietro con un'operazione che si chiama backtrack quindi dopo aver fatto una scelta torno indietro con il backtrack come funziona il backtrack? torno al passo precedente diciamo al passo 8 se iniziamo a contarli da 1 e cosa posso mettere al passo 8? siccome ho già inserito mi trovo una soluzione con tutti i numeri che vanno da 1 a 7 gli unici numeri che posso mettere al passo 8 sono 8 e 9 però 8 l'ho già messo prima siccome sto tornando indietro adesso metto 9 quindi la ricorsione mette 9 e passa allo step successivo e cosa mette? l'unico numero rimanente è 8 e facciamo ancora una volta il discorso siamo arrivati ad avere una soluzione completa la verifico è una soluzione valida? no quindi non la salvo torno indietro però al passo precedente avevo due scelte 8 e 9 queste 8 e 9 ed entrambe le ho già esplorate gli altri numeri sono già stati inseriti nella soluzione parziale quindi l'unica cosa che posso fare è tornare indietro ancora di un passo quindi ritorno al passo 7 al passo 7 mi trovo una soluzione parziale con tutti i numeri che vanno da 1 a 6 quindi vuol dire che posso mettere 8 9 o 7 7 l'ho già messo quindi quello che rimangono sono 8 e 9 provo a mettere 8 vado al passo successivo che numero mi manca? o 7 e 9 quindi prima provo a mettere 7 poi quando ritornerò poi vado avanti poi tornerò indietro quando ritornerò indietro proverò a mettere 9 quindi la ricorsione si basa sul fare una scelta ad ogni passo e poi basare la soluzione al passo successivo sulla base della scelta che ho fatto al passo precedente l'unica cosa da notare è che per ogni casella non provo subito tutte le combinazioni per quella specifica casella ma prima faccio una scelta e poi provo le altre caselle e soltanto quando ritornerò indietro a quel passo proverò farò un'altra scelta per quella stessa casella quindi una volta che avete capito questo meccanismo potrete capire correttamente e impostare correttamente tutti i problemi della ricorsione avete domande su questo esercizio vedete che tra l'altro la soluzione l'implementazione è estremamente compatta sono pochissime righe tra l'altro alcune sono anche di debug o di commento quindi la ricorsione permette di risolvere i problemi anche con pochissimo codice quindi se è tutto chiaro sicuri di una vera domanda? se è tutto chiaro passo all'eltercizio successivo sempre basato sulla ricorsione che si chiama voti Nobel lo trovate su GitHub nella pagina del corso quindi GitHub TDP 2018 ho creato un nuovo repository che si chiama voti Nobel così facciamo un nuovo esercizio sempre basato sulla ricorsione vediamo il testo per partecipare all'edizione Nobel 2018 dell'Ateneo in fase di iscrizione è necessario specificare un sottoinsieme di esami sostenuti per un totale di M crediti con la media dei voti più alta la variabile M quindi quanti crediti varia di anno in anno in base alle specifiche del concorso quindi che cosa viene richiesto? realizzare un programma in Java dotato di interfaccia grafica che permette di trovare il sottoinsieme di esami sostenuti di M crediti con la media più alta utilizzare un algoritmo ricorsivo per implementare la soluzione quindi spiegate in altre parole state finendo l'altriennale avete fatto una serie di esami diciamo una ventina per partecipare al concorso dovete dire di 30 crediti supponendo che ipotizzando che la variabile M sia 30 dovete dire di questi 30 crediti quali sono gli esami che combinati insieme danno somma pari a 30 crediti e questi esami hanno la media più alta hanno la media dei voti più alta quindi qual è il sottoinsieme di esami che vi permette di avere la media più alta quindi non tutti ma soltanto gli esami che hanno somma dei crediti pari a 30 o M più in generale quindi è un problema della ricerca del sottoinsieme ottimale quali sono tutte le possibili soluzioni sono tutte le possibili combinazioni gli esami la cui somma dei crediti vale 30 tra tutti gli esami che avete sostenuto e sono diverse e questo problema è uno dei classici problemi che possono essere risolti con un approccio ricorsivo perché la ricorsione in fondo ricordatevi che è un approccio stupido che prova tutte le soluzioni possibili quindi parte dal primo esame e prova a combinarlo con tutti gli altri poi scelto il primo esame prova a prendere un secondo esame e prova le combinazioni di tutti questi due esami con tutti gli altri fino a quando la somma dei crediti non ottiene una somma dei crediti pari a M diciamo 30 e a quel punto calcola la media associata a questo sottoinsieme di esami se la media è più alta della soluzione corrente salva la soluzione altrimenti va avanti e cerca la prossima soluzione sceglie il secondo esame come primo esame possibile e prova a combinarlo con tutti gli altri esami quindi quello che alla fine si crea è l'albero della ricorsione in realtà ho già creato un progetto in Eclipse per facilitare per velocizzare lo svolgimento dell'esercizio quindi se fate se fate il pull se fate il clone del repository ottenete già un progetto base su Eclipse e nel progetto trovate anche un database che si chiama servitriennale.sql che vi chiederei di importare il vostro database in MySQL o MariaDB o quello che utilizzate quindi vediamo come è fatto questo database mi connetto con SQL Pro al mio database MariaDB vado in esami triennale esami triennale è un database molto semplice ha semplicemente una tabella purtroppo non riesco ad aumentare lo zoom esami triennale ha una sola tabella che si chiama esami con 21 entry e come è strutturata abbiamo una colonna codice insegnamento che rappresenta il codice del corso una colonna voto con un intero che è il voto associato a quell'esame quello specifico esame per quello specifico corso il numero di crediti e il nome del corso è una tabella unica quindi tutte le informazioni sono salvate qui avremmo potuto strutturarla meglio ad esempio separando come abbiamo visto in uno dei precedenti esercizi separando la tabella con le informazioni sul corso da quella dell'esame vero e proprio ma per semplicità abbiamo una sola tabella se andiamo nel progetto di Eclipse voti Nobel troviamo la classica suddivisione che abbiamo sempre quando abbiamo un progetto con il DB quindi abbiamo la classe DAO che ci permette di interfacciarsi con il DB scusate il package DAO che permette di interfacciarci con il DB il package main con le classi che implementano la connessione con l'interfaccia grafica la creazione di interfaccia grafica e il modulo che implementa la logica dell'applicazione proviamo a eseguire il main e vediamo che abbiamo una semplice interfaccia dove dobbiamo inserire il numero di crediti poi abbiamo un bottone calcolo la migliore combinazione e quello che il programma dovrebbe fare è trovare il miglior sotto insieme di esami che mi permette di vincere che mi permette di partecipare al concorso Nobel 2018 nel package DAO abbiamo la classica classe ConnectDB che è quella che implementa la connessione con il database per quelli di voi che utilizzano un altro server diverso dal mio che richiede il nome utente la password ricordatevi di inserire anche la password poi abbiamo una classe TestDB che semplicemente mi restituisce test passato test fallito giusto per verificare la connessione al DB provo a eseguirla e quello che mi restituisce è testDB passato quindi la connessione con il DB è andata a buon fine poi abbiamo altre due classi una è PopulateDB che serve per inserire gli esami in modo tale che voi possiate personalizzare il database con i vostri voti e poi abbiamo una classe esame DAO che invece implementa l'interfaccia con il DB quindi implementa tutti i metodi che sono necessari per estrarre per inserire le informazioni nel DB quali sono i metodi che ci interessano di esame DAO primo è get tutti esami dove ci restituisce una lista degli esami quindi parte dalle informazioni che sono presenti nel DB e crea per ciascun per ciascuna entry un java bin che abbiamo chiamato esame quindi un semplice contenitore dove salvare queste informazioni che sono il codice di insegnamento il nome del corso i crediti e il voto abbiamo un metodo inserisci esame che serve per inserire degli esami all'interno del DB dove utilizziamo la sintassi insert ignore insert ignore serve per evitare di avere dei warning o degli errori nel caso in cui esista già quella entry quella specifica entry e questo serve per inserire questo metodo per inserire degli esami all'interno della tabella esami inserendo il codice di insegnamento il nome del corso il voto i crediti e poi abbiamo un metodo cancella tutti esami che elimina la tabella elimina tutte le entry nella tabella esami e la qui in questo caso è delete from esami questi metodi li ho già implementati giusto per concentrarci sulla soluzione ricorsiva e non sull'implementazione dell'interfaccia con il DB che abbiamo già visto però è sempre un ottimo ripasso per ricordarci come dobbiamo interagire con il DB quindi è il DAO che si occupa dell'interazione con il DB tramite dei metodi che astraggono l'effettiva operazione su questi metodi si appoggia la classe populate DB che ho inserito sempre nel DAO nonostante utilizzi la classe esame DAO giusto per distinguere per una netta separazione da tutte le operazioni che riguardano il DB da quelle che poi implementano effettivamente la soluzione del programma quindi in populate DAO creo un oggetto DAO cancello tutti i voti inseriti quindi cancello tutte le entri della tabella esame e poi inserisco dei nuovi esami li estratti dalla pagina della didattica del Politecnico e alla fine li stampo quindi stampo tutti i voti get tutti i esami quindi se provo a eseguire questa classe ha un main se provo a eseguire populate DB quello che ottengo in output è la lista di tutti gli esami che ho inserito e questo semplicemente è una stampa di debug per informarmi che tutto è andato bene fin qui tutto chiaro non ci dovrebbe essere nulla di nuovo semplicemente l'implementazione del modello DAO andiamo ora nel model concentriamoci sull'implementazione del model nel model abbiamo la classe esame che rappresenta il java bin il contenitore dove salviamo le informazioni di un esame dove abbiamo la classica implementazione con le variabili settate a private in modo tale che non siano accessibili dall'esterno costruttore vuoto e costruttore con i vari argomenti getter e setter per tutte le variabili hashcode ed equals definiti su codice insegnamento perché tanto l'esame è univoco per ciascun corso e poi il metodo toString che stampa le informazioni secondo il formato che vedete qui in basso in test model ho usato il classico approccio top down quindi definisco il model e poi definisco la mia funzione e la funzione la chiamo calcola sotto insieme esami quindi questo è il problema che voglio risolvere voglio calcolare qual è il sotto insieme degli esami di 20 crediti che mi permetta di aumentare le chance di vincere il concorso adesso quello che dobbiamo fare è implementare la soluzione nel model quindi abbiamo tutta una serie di metodi di utility quindi una serie di metodi che mi aiuteranno a risolvere la soluzione ma mi manca la logica noi le implementiamo utilizzando una soluzione ricorsiva quindi prima cosa sono nel model devo avere l'informazione di quali sono gli esami quindi prima cosa che faccio nel model definisco una variabile privata ist esame esami qui è dove salverò quali sono tutti gli esami associati al quali sono gli esami che ho sostenuto poi devo creare un riferimento a esame DAO perché quello è l'interfaccia con il DB sono nel model e devo interfacciarmi con il DB passo dal DAO quindi private esame DAO e DAO nel costruttore di model vado effettivamente a creare entrambi gli oggetti quindi public model costruttore senza parametri scrivo esami scusate scrivo DAO uguale new esame DAO che però devo importare e poi utilizzo esame DAO per avere la lista degli esami sostenuti quindi esami uguale e DAO punto get tutti esami se voglio essere certo che fin qui abbiamo fatto tutto corretto posso fare un semplice ciclo for su esami quindi for esame e due punti esami e stampo e quindi se torno nel test model ed eseguo la mia applicazione ottengo come output la lista di tutti gli esami caricati dal DB fin qui nulla di particolarmente interessante abbiamo semplicemente creato un riferimento alla variabile alla classe DAO e ottenuto la lista degli esami possiamo commentare questa istruzione nel costruttore non è necessario fare altre operazioni concentriamoci adesso nella soluzione ricorsiva quindi soluzione ricorsiva cosa dobbiamo fare dobbiamo tornare a una lista di esami che rappresenta la nostra soluzione quindi diciamo apriamo una variabile globale private list esame soluzione e inizializziamo questa variabile questa soluzione all'interno di calcola sotto insieme esame perché inizializzo qua perché ogni volta che richiamo questa funzione voglio dimenticarmi della soluzione precedente quindi soluzione uguale new array list di esame e importo array list quello che devo restituire è soluzione quindi tolgo return null e scrivo return soluzione come al solito devo definire definisco la funzione ricursiva a parte e scrivo recursive step parziale numero crediti step mi indica che è il livello da ricursione questo è quasi sempre presente direi sempre presente nelle nostre implementazioni parziale ci serve per salvare la soluzione parziale numero crediti ci serve per ricordarci quanti sono i crediti che ci interessano quindi int step uguale a 0 list di esame parziale uguale new array list e numero crediti è già definito tutto chiaro fin qua definiamo a questo punto la funzione la funzione recursive quindi void recursive diciamo void perché diciamo che ritorni void perché non ci interessa che la funzione ritorni qualche valore in particolare e di solito il valore di ritorno della funzione ricursiva può essere void o boolean dovreste averlo già visto ma ve lo ricordo void ritorna void quando siamo interessati a cercare la migliore soluzione possibile ritorna boolean quando siamo interessati a cercare una soluzione in particolare perché void significa che non abbiamo alcun controllo sul valore di ritorno e quindi siamo obbligati a esplorare tutto lo spazio delle soluzioni se ritorna boolean invece abbiamo il controllo sul valore di ritorno della funzione possiamo fare un controllo se la funzione ricursiva ritorna true o ritorna false e se la funzione ricursiva ritorna true in qualche passo della ricursione vuol dire che ha trovato una soluzione ottima o comunque la soluzione che cercavamo perché molte volte non siamo neanche interessati ad una soluzione ottima ma siamo semplicemente interessati ad una soluzione del problema e nonostante questo utilizziamo un approccio ricursivo perché l'approccio ricursivo è un approccio alla risoluzione dei problemi quindi magari poi vediamo come si fa a trovare sia la prima soluzione che la soluzione ottima giusto per ripassare e diciamo che questo metodo è private quindi private void recursive e cosa accetta come parametri in input int step list esame parziale int numero crediti quindi quali sono i tre blocchetti che più o meno ci sono sempre una funzione ricorsiva la parte relativa al debug se siamo interessati la parte relativa alla condizione di terminazione e la parte relativa alla creazione generazione di una nuova soluzione parziale allora in debug abbiamo detto che è semplice quello che dobbiamo fare è semplicemente stampare parziale ovviamente questo non è obbligatorio ma all'inizio secondo me è molto utile farlo per capire che cosa il vostro problema sta facendo quindi stampa parziale poi condizioni di terminazione diciamo che non vogliamo mai che il nostro problema ecceda la lunghezza massica quindi non vogliamo mai che step sia maggiore del numero totale di esami questa è una condizione lecita ma in realtà non vogliamo mai possiamo definire una condizione più stringente se non vogliamo mai che la nostra soluzione parziale abbia un numero di crediti totale maggiore di numero crediti perché io sono interessato a cercare una soluzione un subset un sotto insieme di esami in cui l'insieme di crediti sia uguale al numero crediti ma se è maggiore non va bene quindi if tot crediti di parziale è maggiore di numero crediti return quindi ricordatevi sempre l'approccio top down non definisco subito la funzione tot crediti la definisco in seguito ma so che è una funzione che chiamata mi restituisce il numero totale dei crediti data quella soluzione parziale se invece la soluzione parziale è pari al numero crediti beh allora devo andare a vedere se è migliore di quella precedentemente trovata di parziale di parziale è uguale 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 e se di parziale è maggiore di best allora devo salvare la soluzione parziale come faccio salvarla? non basta che dica soluzione uguale parziale perché sapete che c'è il problema dello shallow copy e del deep copy ma devo scrivere soluzione uguale new array list di parziale scrivendo così ricordatevi quello che succede viene creata una nuova array list che copia i riferimenti degli oggetti contenuti all'interno di parziale quindi fa una deep copy della lista quindi l'oggetto esame che viene salvato all'interno di parziale non è più conosciuto soltanto dalla lista parziale ma è conosciuto anche dalla lista soluzione questo fa sì che se la lista parziale viene modificata durante il processo ricorsivo soluzione no perché soluzione ha una copia dei riferimenti degli oggetti di parziale nel momento in cui ho fatto la fotografia quindi fare così scrivere new array list di parziale è come fare una fotografia dell'attuale soluzione parziale e copiarla salvarla in una variabile temporale la soluzione così quando poi parziale sarà modificata successivamente non influenzerà la variabile dove invece ha salvato la soluzione migliore perlomeno una migliore locale poi devo fare generazione di una nuova soluzione parziale come faccio a generare una nuova soluzione parziale cosa sono gli elementi che devo andare a inserire all'interno della mia soluzione parziale sono gli esami quali esami tutti perché tutti gli esami sono possibili candidati quindi itero sulla lista degli esami che ho preso dal database e provo ad inserirli provo ad inserire il primo quindi faccio una scelta vado al secondo passo e ne sceglierò un altro utilizzando l'unico criterio di non inserire due volte lo stesso esame perché gli esami devono essere univoci perché sto cercando di subset che soddisfi il criterio di avere la media più alta quindi for esame due punti esami quindi esame esame due punti esami se parziale punto contains esame controllo che non lo contenga ricordatevi che per usare contains devo aver definito escode equals che ho già fatto ma non sempre è così quindi controllate che nell'implementazione fornita ci sia definito escode equals quindi se non è contenuto vuol dire che posso aggiungerlo è un possibile candidato quindi scrivo parziale punto add esame chiamo di nuovo la funzione ricorsiva la funzione ricorsiva la chiamo con passo più uno quindi step più uno parziale che è la mia soluzione parziale e numero crediti e poi secondo il pattern che abbiamo studiato dopo aver aggiunto e chiamato la funzione ricorsiva devo togliere perché faccio una scelta esploro l'albero della ricorsione relativa a quella scelta e quando tornerò indietro al passo che sto analizzando devo rimuovere questa scelta e farne un'altra e questo si fa prima aggiungendo e poi togliendo però non aggiungo qualsiasi cosa aggiungo soltanto gli esami che non sono già contenuti in una soluzione parziale detto questo mi mancano alcune cosine da definire alcune variabili alcuni una variabile e due funzioni innanzitutto cos'è best? best è una media la media è un double ed è una variabile globale perché deve salvare la migliore soluzione quindi non posso passarla come parametro alla funzione ricorsiva perché altrimenti verrebbe cambiata man mano che la ricorsione va avanti ma devo essere sicuro che sia univoca quindi che non possa essere cambiata durante lo svolgimento della procedura ricorsiva e per questo nello stesso modo in cui salvo soluzione come variabile globale devo salvare anche best come variabile globale quindi crea una variabile privata double best average best avg perché best è un nome poco significativo quindi cambio best in best average quindi la migliore media e inizializzo questa variabile all'interno di calcolo sotto insieme esami subito sotto soluzione uguale new array list quindi best avg uguale 0.0 queste due istruzioni che faccio all'inizio queste due operazioni che faccio all'inizio di calcolo sotto insieme esami rappresentano l'inizializzazione inizializzazione della ricorsione diciamo delle strutture dati inizializzazione diciamo semplicemente inizializzazione inizializziamo le strutture in cui andremo a salvare la migliore soluzione e qual è la media relativa alla migliore soluzione quindi soluzione best avg in realtà sono correlate avrei potuto evitare di definire best average calcolandomela ogni volta a partire da soluzione però la salvo per efficienza per questione di efficienza è inutile che vada a ricalcolarla se posso cachearla se posso con una cache il risultato quindi definito best avg mancano due funzioni totcredity e average totcredity è molto semplice quindi public int totcredity e come parametro riceve una lista list esame parziale che cosa fa questa funzione semplicemente mi restituisce la somma di crediti relativa alla soluzione parziale quindi semplice ciclo for for esame e due punti parziale somma somma più uguale e punto get crediti inizializzo inizializzo somma a zero e e ritorno e ritorno la somma poi poi ho ancora un'altra funzione che è la funzione average che mi calcola la media di una soluzione parziale public double average come prima riceve come parametro una lista di esami questa volta double average uguale a zero for devo iterare sugli esami calcolare la media pesata e ritornare la media pesata come si fa a calcolare la media pesata devo moltiplicare il numero dei crediti per il voto e dividere per la somma del numero dei crediti quindi for esame e due punti parziale e punto get crediti per e punto get voto e questa cosa la salvo in average quindi average più uguale a il numero dei crediti per il voto alla fine devo dividerla però per il numero totale dei crediti per fortuna ho già una funzione che mi permette di calcolare il numero totale dei crediti quindi scrivo average diviso uguale tot crediti di parziale diviso uguale è la stessa cosa di fare più uguale però al posto del più faccio diviso quindi prendo il valore di average lo divido per totale crediti e lo salvo in average semplicemente una notazione compatta avrei potuto scrivere average uguale average diviso totale crediti chiaro? semplicemente la formula della media pesata e alla fine scrivo return average se mi ha implementato tutto correttamente dovrebbe funzionare l'unica cosa che cambio è la stampa di debug perché se stampo tutto così com'è l'esame non si capisce nulla perché ciascuna riga è troppo lunga quindi direi che quello che posso fare è un ciclo su parziale quindi for esame e due punti parziale system.out.print di e.getCodeIns più spazio in questo modo stampo i codici di insegnamento separati in uno spazio e alla fine vado a capo utilizzando println quindi ricordatevi la differenza tra print e println print stampa sulla stessa riga senza andare a capo println aggiunge alla riga il backslash n newline quella ln sta per newline proviamo a vedere cosa succede se eseguiamo vedo che vengono stampati tutte le combinazioni possibili di esami quello che voglio è ovviamente ottenere la lista delle combinazioni quindi sono nel test model dico che list esame soluzione uguale model.calcola sotto insieme esami salvo semplicemente il valore ritornato dalla funzione calcola sotto insieme esami calcola sotto insieme esami mi ritorno una lista salvo questa soluzione sotto forma di lista importo java utillist così tolgo l'errore e alla fine stampo la migliore soluzione quindi for for esame e due punti soluzione stampo system.out.println e e prima scrivo system.out.println migliore combinazione di esami provo a eseguirlo mi dice che la migliore combinazione sono gli esami per arrivare a 20 è la seguente 19 22 28 e se avessi messo 30 in realtà mi sono appena accorto di aver dimenticato una un'istruzione essenziale ed è quella di ok quando calcolo quando trovo una soluzione parziale che ha un numero di crediti totale pari al numero di crediti selezionato controllo che sia maggiore di best average e best average lo inizializza a zero però non salvo il nuovo valore di best average e questo è un errore quindi non solo devo servare la soluzione ma devo anche aggiornare best average quindi best average uguale a average di parziale scusatemi quindi per ricapitolare dopo la condizione di terminazione devo calcolare se ho trovato una migliore soluzione quindi controllo se ho trovato una nuova soluzione migliore della precedente come faccio a controllarlo controllo prima che il numero di crediti totale sia uguale a quello cercato poi controllo che la media sia maggiore di best average che è inizializzato a zero se è così salvo la soluzione ma devo anche aggiornare best average quindi adesso provo a rieseguire test model questa volta impiega un po' di view in realtà quello che fa impiegare tanto il programma è se sono le stampe quindi possiamo anche provare a rimuoverle vedere se impiega meno tempo quindi la migliore adesso ho terminato comunque la migliore combinazione di esami trovata è la seguente per 30 27 27, 30, 30 tutti quanti con crediti pari a 10 se provo a cambiare da 30 passo a 20 in questo caso utilizzando una combinazione di due esami con voto 30 trovo la migliore soluzione e se scrivessi 22 così evito di avere due esami da 10 crediti trovo che la migliore combinazione è un voto di 28 per 6 crediti di 30 per 8 crediti di 29 per 8 crediti quindi in rassumendo abbiamo una nuova categoria di problema perché fino ad ora i problemi visti erano problemi riguranti per mutazioni quindi avevamo avevamo un problema dovevamo trovare la permutazione di valori che risolvesse quel problema quindi avete visto la permutazione sulle stringhe la permutazione sulle 8 regine sulle 9 regine del quadrato magico la permutazione delle stringhe per trovare per il laboratorio passato per trovare quali parole erano presenti nel dizionario esercizi in cui bisognava cambiare l'ordine delle variabili per trovare la soluzione migliore questo invece è un'altra tipologia di esercizi esercizi in cui bisogna trovare il sottoinsieme ottimale in realtà si risolve sempre l'approccio della ricorsione quindi cambia poco se vedete il modo in cui è stato impostato è sempre lo stesso direi che abbiamo terminato se non avete domande finiamo qui avete domande? tutto chiaro? se non è chiaro scrivetemi pure via mail come al solito buona serata grazie a tutti